Un minuto compadre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotomio, dalla chiesetta antica, un luogo straordinario, il primo luogo che ebbero l'opportunità i tanti fedeli pellegrini che giungevano qui a San Giovanni Rotondo per partecipare alla messa di Padre Pio, la gente quasi ammassata anche fin sotto l'altare. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di Emilio Regionini, un bolognese che, quindi parliamo dei primi anni del grande afflusso dei fedeli qui a San Giovanni Rotondo, possiamo prendere una data come riferimento, siamo negli anni trenta quando Bologna era diventata la capitale quasi del culto dei devoti di Padre Pio e quindi scendevano da Bologna tantissimi fedeli. Tra questi c'era Emilio, Emilio che prese il treno, giunse a Foggia, prese la corriera e salì a San Giovanni Rotondo. Lui di buon mattino si precipitò in chiesa per partecipare alla messa di Padre Pio e lui si era posizionato, si era tra i banchi all'ultimo posto perché doveva subito scappare e andare a prendere quindi la corriera e ritornare a prendere il treno a Foggia per andare a Bologna. Una toccata e fuga, come a volte si dice. Lui purtroppo la messa di Padre Pio si protrasse per più tempo e allora lui era indeciso se restare qui a San Giovanni Rotondo oppure prendere la corriera. A un certo punto durante la messa lui sente dal piazzale il clacson della corriera che avvertiva che doveva mettersi in viaggio verso Foggia, per poi era importante per lui non perderla e prendere il treno per Bologna. Però prima di andare via decise di salutare Padre Pio col suo angelo custode. Lui gli inviò l'angelo custode per salutarlo, soprattutto perché per chiedergli un segno se avesse ricevuto questo messaggio. E con suo grande stupore Padre Pio che stava celebrando qui la messa, a un certo punto lo stesso Emilio lo vide quasi reclinare il capo verso sinistra, come se stesse ascoltando qualcuno che gli diceva qualcosa all'orecchio e dopo un po' Padre Pio alzò la mano quasi con un cenno di saluto e lo fece per ben tre volte. Questo fu lo stupore ma soprattutto la gratitudine, il sorriso e la gioia di Emilio che poteva subito prendere la corriera e andare a Foggia e quindi ritornare nella sua Bologna.